Buonasera a tutti C'è Serena Buonasera C'è Cristina Buonasera a tutti E c'è Enrica Buonasera E ci sono anche i nostri concorrenti E la Cristina era un maschiaccio Vero? Uno, due, tre, quattro Cara Enrica, Enrica cara Di cosa parliamo? Stasera parliamo di film Film? Sì Allora qui ho trovato anche Oh, va bene che aveva detto Che era sbadata la nostra Anna Maria Ma l'ha dimostrato proprio lasciando gli occhiali qua Una verità E' vero che sei sbadata Allora, quale film Dal 2000 Oh, entrino i concorrenti Ed entri il nostro campione Che si chiama Michele D'Urso E viene da Ronchi dei Legionari Provincia di Gorizia Eccolo qua Ti sei presa paura Cristina? Hai fatto come Gilardino quando segna il gol Uno, due, tre, quattro Allora Cristina Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Spedizione dei Mille Beeeh Uno, due, tre, quattro Allora Eccoci di nuovo insieme Adesso di cosa parliamo? Abbiamo un'altra scossa Visto che sono state così bravi Adesso parliamo di cantanti Molto bene Dopo i Garibaldini cantanti Allora Chiudilo Valeria Valerio Uno, due, tre, quattro Eccoci di nuovo insieme Siamo tornati all'eredità Cara Benni Per gli amici Benedetta Qual è l'argomento di questa sera? Parliamo di record sportivi Allora Il record del mondo di quale disciplina dell'atletica leggera maschile resiste da più tempo Salto in lungo 200 metri Lancio del disco Salto in alto Lancio del giavellotto Salto con l'asta 400 metri ostacoli Lancio del peso 1500 metri Uno, due, tre, quattro Benedetta Benedetta di cosa parliamo? Si parla di sovrani azzechi Argomento tosto eh Sovrani azzechi Allora We could've had it J extracted Ji Hari J Zhongli But you played it You played it You played it You played it To the beat Oh 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 Oh